Il secondo brano, come Silver sta annunciando, fa parte di un microsolco di recente incisione dal titolo In Pursuit of the 27th Man, cioè alla ricerca del 27esimo uomo. Il titolo del brano è The Liberated Brother, il fratello liberato. Il fratello liberato, 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 il fratello liberato. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti